Sorpresi e arrestati in flagranza di reato mentre erano intenti a ritirare il pizzo da attività commerciali. E' partita così l'operazione della Polizia di Stato che a Catania ha disarticolato il clan Mazzei, arrestando 30 persone indagate a vario titolo di associazione mafiosa, spaccio di droga, estorsioni, rapina e armi. La squadra mobile, su delega della direzione distrettuale antimafia della locale procura, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti e sequestrato diverse quantità di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. Tra i destinatari dell'ordinanza emessa dal GIP ci sono diversi imprenditori e commercianti ai quali è stato contestato il reato di concorso in estorsione attuata con modalità mafiose. Sono accusati in particolare di essersi rivolti ad esponenti dell'organizzazione Mazzei per recuperare i propri crediti. Tra i destinatari della misura cautelare figura anche l'attuale reggente del clan, Sebastiano Mazzei, figlio del capo mafia Santo, che era rimasto latitante fino al 10 aprile scorso quando fu arrestato dalla polizia in una villetta di Ragalna. Lo storico boss della cosiddetta Cosca dei Carcagnusi è detenuto in regime di 41 bis e divenne uomo d'onore su decisione del boss corleonese Leo Luca Bagarella. La cosca, infatti, a cui era capo è inserita in Cosa Nostra ed è legata alla famiglia palermitana. A distanza di una settimana dalla notizia della sua liberazione, è finito l'incubo per il medico catanese e scomparso in Libia lo scorso gennaio. A bordo di un volo speciale, partito domenica sera dall'aeroporto di Tripoli, Ignazio Scaravilli ha fatto rientro in Italia, dove sarà ascoltato dagli inquirenti per fare luce sulla vicenda. Nonostante il lieto fine, infatti, sono ancora molte le ombre attorno ad una sparizione di cui ancora non si comprende appieno la natura. Dal 22 gennaio, il giorno in cui alcuni colleghi hanno segnalato la sua scomparsa, al 9 giugno, quando la Farnesina ne ha annunciato la liberazione, le notizie sul medico catanese sono state praticamente inesistenti. Da una parte il Ministero degli Esteri che, mantenendo il consueto riservo attorno a questi casi, ha continuato a usare la formula irreperibile. Dall'altra i media, che hanno ipotizzato il rapimento da parte di un gruppo radicale vicino ad Ansar al-Sharia. Poi, circa una settimana fa, è arrivata la notizia della liberazione e la comunicazione da parte dell'unità di crisi della Farnesina che Scaravilli si trovava negli uffici delle autorità di Tripoli per gli adempimenti di rito. Ma intanto i giorni passavano senza che la famiglia del medico catanese potesse rintracciarlo. Tra le prime ipotesi formulate, quella di Andrea Purgatori, che ha scritto sull'Huffington Post, che Scaravilli era finito al centro di un braccio di ferro diplomatico tra Roma e Tripoli. Poi, a poche ore dal suo rilascio, è spuntata un'altra ipotesi del governo di Tripoli, secondo cui il medico non sarebbe stato rapito, ma fermato e tenuto in arresto per tutto il tempo dai servizi segreti locali. Forze di intelligence pensavano che stesse facendo chiamate sospette e così l'hanno preso per indagini, ha spiegato Zubia, direttore del Dipartimento Media Stranieri del Governo. Ora che un supplemento di indagine è stato fatto, viene liberato. Sul tipo di indagini o sulle accuse a carico del medico, però, non c'è nessuna certezza. La Farnesina parla invece di semplici pratiche amministrative che hanno prolungato i tempi. Quel che è certo, ha sottolineato il capo dell'unità di crisi, è che è stato trattato molto bene dalle autorità di Tripoli. Migliaia di posti di lavoro a rischio. In Italia, il comparto della TV locale rischia di sparire. Molte frequenze di trasmissione assegnate per vent'anni. Ora vengono tolte. Canoni per l'uso delle frequenze enormemente aumentati. Numeri sul telecomando ancora in discussione. Forti limitazioni alle attività trasmissive. Tutto ciò è inaccettabile. Le TV locali rischiano di spegnersi per sempre. Viene soppressa la libertà d'informazione. Viene soppressa la libertà d'impresa. Viene soppressa la voce del territorio. Il governo deve decidere se vuole ancora le TV locali. Comunica. Global Security International. Gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato. Pronto intervento. Controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International. Servizi di scorta. Radio e telecamere. Telesoccorso 24 ore su 24. Vigilanza notturna e diurna. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. Vigilanza fissa. Exploato il Movimento 5 Stelle e le elezioni amministrative. Alla luce dei ballottaggi appena conclusi, i pentastellati hanno conquistato la maggioranza nei comuni di Gela, Augusta e nel capologo di provincia Enna. Qui, dove l'affluenza è stata del 54% degli eventi diritto, è stato Maurizio Di Pietro a spuntarla, con il 51,89% delle preferenze, superando il candidato del centrosinistra, Vladimiro Crisafulli, che al primo turno era in vantaggio e che aveva definito facile la vittoria al ballottaggio. I grillini espugnano anche Gela, roccaforte e comune di nascita del governatore della regione, Rosario Crocetta. A spuntarla è stato domenico messinese, ai danni del sindaco uscente Angelo Fasulo. Ad Augusta, i 5 Stelle vincono con l'avvocata Cascettina Di Pietro, battendo la concorrenza di Domenico Paci, sostenuto da liste civiche. Ampia vittoria per il Partito Democratico, invece a Marsala, dove il nuovo sindaco Alberto Di Girolamo, che con il 62% delle preferenze, ha superato Massimo Grillo. A Carini è stato confermato il risultato di due settimane fa, ed è Giovi Monteleone a vincere, sostenuto dal PD e dalle liste civiche collegate, ottenendo il 60% delle preferenze, e battendo Gianfranco Lopiccolo, caldeggiato da Carini Pulita e PDR. Per il centrodestra, vittoria a Barcellona Pozzo di Gotto, dove Roberto Materia, liste civiche di centrodestra, a superare il sindaco uscente sfiduciato, Maria Teresa Collica, con il 56,72% delle preferenze. Gli altri comuni, nei quali si sono svolte le votazioni, nella giornata di ieri ed oggi, sono Bronte, Tremestieri Etneo, Ispica, San Giovanni Lapunta, Ribera e Milazzo. Dati preoccupanti, riguardano l'affluenza alle urne, in netto calo. Con il 49,9% si registra un trend legativo, equivalente a 16 punti in meno, rispetto al primo turno. È tornato online alle 19 di ieri il sito regionale sulle elezioni. Il blackout, durato per quasi tutta la giornata, si era verificato dopo il fermo da parte dell'ex socio privato della regione, nel server che contiene i dati informatici pubblici e che l'ex socio continua a gestire in Valle d'Aosta. Escluso dalla società Sicilia e Servizi, divenuto entramente a capitale pubblico per scelta del governo regionale, l'ex socio privato rivendica il pagamento di servizi e infrastrutture per una somma pari a circa 100 milioni di euro. Scaduto l'ultimatum di pagamento alla mezzanotte del 14, è scattato il fermo del server, che ha portato all'oscuramento di tutti i siti regionali, compreso quella elettorale, proprio nel giorno dei ballottaggi comunali. In Tilti, anche il centro di prenotazioni di esami e di visita negli ospedali, e a rischio anche il servizio del 118. La tregua si è ristabilita dopo la promessa del governatore Crocetta di fissare un incontro per cercare di risolvere il contenzioso. È necessario però trovare al più presto un accordo per scongiurare il pericolo di una nuova paralisi che coinvolgerebbe diversi siti istituzionali. La società privata gestisce infatti diversi servizi, tra cui la contabilità economica e finanziaria, il pagamento degli stipendi, la nuova anagrafe regionale, l'applicativo Paghi, il portale dei medici di medicina generale, la posta elettronica della regione e altri servizi connessi a internet per il cittadino e per i dipendenti dell'amministrazione. Ancora un'altra incursione a Palazzo Zanca. Nelle scorse ore un giovane armato di bastone è entrato nella sede del municipio. Urlando è arrivato fino alla porta del sindaco dove è stato fortunatamente bloccato. Urla e minacce rivolta all'amministrazione, colpevole di non aver dato una casa alla sua famiglia, vittima dell'alluvione di Giampilieri del 2009. Lo stesso tragitto era stato fatto lo scorso mese da un gruppo di ambulanti multati giorni prima che per protesta fecero irruzioni in municipio pretendendo di incontrare il sindaco Renato Accorinti. Riusciti a raggiungerlo dopo aver minacciato un addipendente gli ambulanti insultavano e aggredivano con spintone il primo cittadino che cercava di spiegare loro come mettersi in regola. Non è quindi il primo episodio del genere che si verifica al comune di Messina. La mancanza di barriere da quando il sindaco Accorinti ha deciso di eliminare le vetrate d'ingresso ha reso semplice per chiunque manifestare piccoli o grandi problemi fino alle stanze degli amministratori. La mancanza di sicurezza a Palazzo Zanca più volte denunciata anche dagli stessi dipendenti è diventato un problema da non sottovalutare. La facilità con cui chiunque può entrare armato o di bastone o di altro è fonte di insicurezza per tutti quelli che frequentano il palazzo meta troppo facile di chi ormai è anche armato vuole farsi sentire. Torna dal 19 giugno l'appuntamento come di sport e benessere la grande manifestazione che raccoglie diverse anime operante nel settore del benessere e del buon vivere. Quest'anno la grande mostra mercato si svolgerà nell'area spazioventi del centro commerciale con Cadoro di Palermo. Fino al 28 giugno i visitatori potranno conoscere ed acquistare prodotti agroalimentari siciliani e partecipare attivamente all'evento attraverso le innumerevoli attività in programma. Previsti convegni dibattiti e un percorso della salute organizzato tra i viali della manifestazione. Sono previste diverse manifestazioni una delle tante è il percorso benessere che sarà realizzato dall'ASPE di Palermo nei due giorni concordati ma poi si parlerà di dieta mediterranea ci saranno molte possibilità di poter apprezzare quello che è della gastronomia palermitana abbiamo invitato anche il nostro amico Nino il Ballerino che metterà in campo anche i suoi prodotti ricordiamo che Ballerino è la persona che ha vinto il primo premio nazionale sullo street food e quindi sarà un piacere e un onore per noi poterlo ospitare. Questa manifestazione diciamo che racchiude tutto un insieme di manifestazioni che la CIDC ha affiancato quest'anno e quindi vi aspettiamo numerosi nello spazio antistante il conca d'oro in modo da poter apprezzare quello che rappresenta lo sport a Palermo sarà presente il CONI ci saranno moltissime manifestazioni fra l'altro ci saranno anche un palco montato con molte scuole di Palermo rappresenteranno quello che è il loro prodotto le loro realizzazioni anche dal punto di vista musicale danza e quant'altro ci sarà un campo per l'estetica ci saranno diversi professionisti che impartiranno lezioni anche di educazione fisica correttiva ci sono sono presenti diciamo diverse scuole della città di Palermo nel campo dello sport e delle attrezzature chi covo un amore d'uovo e ci saranno inizio e ci saranno inizio 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 prosegue ininterrottamente il mercato del Palermo in vista della prossima stagione si cerca sempre un attaccante ma stando alle ultime indiscrezioni si potrebbe allontanare Jonathan Caglieri un affare che potrebbe decollare magari nei prossimi giorni ma che adesso sta attraversando una fase di stallo intanto il club di Viale del Fante non ha nessuna intenzione di cedere a Krav Lazare siamo soddisfatti del campionato che Ascheraff ha fatto quest'anno ad oggi esistono pochi giocatori con le sue caratteristiche dice il suo agente futuro stiamo parlando in merito al rinnovo del suo contratto ci sono continui contatti tra i giocatori non ancora in vacanza perché è impegnato con la nazionale Under 21 svedese c'è Robin Quaison che dice sto bene mi sento bene voglio sfruttare al massimo questo momento positivo per diventare un calciatore migliore e sviluppare tutto il mio dichiarazioni riportate da Mediagol la mia esperienza in Italia non posso lamentarmi di nulla ho imparato molto tatticamente nel mio primo anno in Serie A e voglio perseguire obiettivi sempre più prestigiosi e iniziare dalla prossima stagione Franco Paleari è il nuovo preparatore dei portieri del Trapani Calcio ex portiere avvestito in carriera alle maglie tra l'altro di Udinese Palermo Verona Livorno Messina Parma e Arezzo da allenatore è stato a Lecce Polonia e Palermo nell'ultima stagione ha allenato i portieri del club rosa nero e intanto Andrea Cattoli agente di Filippo Falco ai microfoni di Sport Italia ha parlato del futuro del trequartista in forza al Trapani nella passata stagione ha fatto una grandissima stagione tanto da attirare le attenzioni della Serie A dice vediamo ma in ogni caso ha dimostrato di meritare il massimo campionato Catania si attende solo la firma di Pasquale Marino per iniziare la campagna acquisti piacciono anche due giocatori del Palermo e sono Claudio Terzi e Fabio da Prelà momenti di tensione stamane a 20 miglia dove procede lo sgombero dei profughi che da giorni stazionano all'aperto sperando di poter entrare in Francia i migranti vengono condotti ai ricoveri allestiti alla stazione con l'assistenza della Croce Rossa tornare al rottamatore chiudere la stagione delle primari accelerare sulle riforme così il premier Renzi in un colloquio con Gramellini della stampa all'indomani del deludente risultato delle comunali con il Renzi 2 non si vince ha detto sguardo al voto dell'anno prossimo nelle grandi città e a quanto accade a Roma fossi Marino dice non starei tranquillo le indagini su mafia capitale oggi il tribunale del riesame valuterà i ricorsi di alcuni indagati dopo i provvedimenti restrittivi scattati una decina di giorni fa Salvatore Buzzi il RAS delle cooperative in carcere dallo scorso dicembre ha intanto chiesto di patteggiare una condanna a tre anni e sei mesi la procura darà parere negativo blitz della polizia di Catania contro il clan Mazzè in esecuzione ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 30 persone indagate a vario titolo di associazione mafiosa spaccio di droga estorsione e rapine coinvolti anche imprenditori e commercianti che si servivano della cosca per recuperare i loro crediti dipendenti delle ferrovie oggi in sciopero la protesta è stata indetta da Orsa Cat e Cube per chiedere maggiore sicurezza dopo l'aggressione subita recentemente da un capotreno a Milano fino alle 17 i treni suburbani regionali a lunga percorrenza potranno subire ritardi o cancellazioni grande attesa per l'enciclica laudato sì di Papa Bergoglio che sarà presentata giovedì dedicata alla tutela del pianeta e alle emergenze ambientali custodite la terra preservatela dagli abusi e il monito lanciato dall'enciclica in parte anticipata dall'espresso i crimini contro la natura sottolinea Francesco sono crimini contro noi stessi e contro Dio grazie a tutti